Abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di alcuni residenti in zona via Ramelli, vicino all'ospedale nuovo di Ragusa, che riguardano tentativi di furti in abitazione e siamo preoccupati perché la percezione di sicurezza a Ragusa continua a calare. Lo dichiarano dal laboratorio 2.0, in cui aggiungono che già nel centro storico della città si sono verificati episodi delinquenziali, come quello del negozio incendiato in via Roma e ora anche nelle periferie. Si resistono casi spiacevoli e ciò influisce sulla sensazione di serenità dei cittadini che temono il verificarsi di fatti gravi, quindi si chiede ai vertici di forse dell'ordine di intervenire intensificati i controlli anche in quelle zone. E sarà necessario quanto prima, rimarcono dal laboratorio 2.0, anche il nuovo piano di sicurezza urbana, che potenzia la videosorveglianza al centro come nelle periferie e nelle contrade, un impegno dunque che il nostro candidato sindaco, Sonia Migliore, ha voluto inserire nella nostra mappa del buon governo da presentare agli elettori.